Il voto del Parlamento europeo sul rapporto Cubilius, un documento che propone di rigidi i rapporti con la Russia, mette a nudo una spaccatura fra i sovranisti. Le pattuglie di Salvini, ID e Meloni, ECR, votano a favore, i francesi di Le Pen e i tedeschi di AFD no. Ma dietro la conversione c'è anche una ragione tattica. Meglio Kaczynski oggi che Putin domani. C'è la firma di Matteo Salvini sulla svolta a Bruxelles. La delegazione della Lega nel gruppo Sovranitaid, Identità e Democrazia, ha votato a favore del rapporto Cubilius, il documento approvato dal Parlamento europeo nella serata di mercoledì che si propone di resettare i rapporti fra Mosca e Bruxelles. Affirmarlo è un europarlamentare del PPE, Andrius Cubilius, già primo ministro della Lituania. Si tratta di una lunga roadmap, per contenere la minaccia russa, e cosa da niente, promuovere, la trasformazione della Russia in una democrazia. Messo ai voti in aula, il rapporto è stato approvato con 494 voti a favore e 103 contrari. Il tempismo non è casuale, da qui a domenica in Russia si voterà per il rinnovo della Duma, al termine di una lunga campagna elettorale segnata da una decisa repressione governativa delle forze di opposizione. Niente unanimità, sottolinea divertita l'agenzia governativa di Mosca Tass, ma il voto a grande maggioranza rimane eloquente. Il rapporto si spinge perfino a ipotizzare un mancato riconoscimento del Parlamento europeo dell'esito del voto russo, perché la continua repressione di tutti i candidati di opposizione, dei media liberi e delle ONG mina la legittimità e la correttezza delle elezioni. Grazie a tutti.